Musica Lo sapevo io, lo sapevo, ma ne fregate, se è vero com'è vero, che c'è seccava, se mi lascia venire a parlare, e mi sono spiegato. Tonì, ma che è successo? Perché sei così arrabbiato? Mannaggia, ma hanno fregato, mannaggia le pecore di pedrelle di fernina, dove? Campobasso, Campobasso, ma che te frega a te? Dove? Che te frega? Hanno fregato. Ieri, gli amici miei, dei tempi del liceo, mi hanno detto, ma che facciamo? Ci facciamo una bella uscita, come quando eravamo ragazzi, ce ne andiamo al pub, ce ne andiamo. Caprae, io a Montanare di Bisacce, non sono mai uscito. Ieri sera gli ho detto di sì, e là vanno fregato. Hai fatto bene. Ma che ho fatto bene? Siamo arrivati al pub, se è vero com'è vero, ma arriva il menù, e che capiva niente. Cisburgo, burgo, barra, patatina, quelle sì. Alla fine mi ha incuriosito Otto Dog. Ho chiesto, scusate, ma è buono questo Otto Dog? E tutto sta, sta, piglio, piglio, se mi lascia finire a urlare. E allora? E allora volevo capire che cosa ho mangiato, perché mi arriva questo panino con un coso dentro, no? Che c'è zicca sta cosa? E ora stavo vedendo, dico, fammi capire che cosa ho mangiato. E allora? Ho trovato Otto Dog. Otto vuol dire caldo, e caldo per lui era caldo. E dog? E dog, e dog vuol dire cane, capito? Socio, ti hanno fatto mangiare il cane. E non solo, non solo, dico io, ma con tutte le parti del cane. Ma proprio quelle mi doveva capitare, mannaggini, castelli di Termola, via lui. Grazie.